Sono oltre 300 le candidature per la quarta edizione del premio giornalistico Estra per lo sport promosso dalla Multutility Energetica con l'Unione Stampa Sportiva Italiana ESG Plus Ghiretti & Partners. Numeri record, oltre 15.000 studenti e 567 scuole di tutta Italia per l'undicesima edizione di Energicamente, il concorso ludico didattico di Estra, Legambiente e La Fabbrica. Estra inaugura nel comune fiorentino di Calenzano 5 nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con le colonnine di Calenzano salgono a 23 in Toscana gli impianti di Estra per la ricarica elettrica. La squadra Corse di Estra, patrocinata dai comuni di Arezzo e Prato, ha vinto la 1000 Miglia Green, la versione per auto elettriche della storica manifestazione che si è snodata per 1750 km.